Il sapore fresco del pomodoro a pezzi nei nuovi sughi pronti norme. Acclamazioni, plausi, lodi per il trionfale successo di Paperissimo. Nella prossima puntata scopriremo chi vincerà il concorso dei video amagoriali aggiudicandosi una montagna di eoli. In giuria Maria De Filippi, il capitano Lorenzo Flaherty Deiris, Luca Lauretti, Alessia Marcuzzi, Daniele Piondi. Paperissima, un programma di Antonio Ricci. Ultima puntata domani alle 21 su Canale 5. Filare ogni tanto è divertente, ma non si finisce mai. Ehi, ma hai una scarpa bianca e una nera. Ecco, è tutto il giorno che mi sposo. A pranzo un panino al volo, adesso non ci vedo più dalla fame. Per fortuna c'è la mia fiesta, tanta sostanza con un gusto inimitabile. Fiesta, nutre con piacere. Fiesta, nutre con piacere. Oggi ha preso il coupé, nuova classe a coupé. Milano Finanza presenta il nuovissimo Atlante economico, finanziario e politico. Una nuova geografia mondiale, un'analisi economico-finanziaria esclusiva. Tutti i paesi dall'A alla Z in un'opera unica e indispensabile che descrive il nuovo mondo. Da sabato 29 gennaio in Eticola con Milano Finanza, il primo volume in regalo. Io sono la mortadella Casa Modela. Ho un profumo invitante. Ho un bel colore rosa. E mi scienco in bocca. Casa Modela è un marchio garantito da grandi salomifici italiani. E mi scienco in bocca. Permette, non ci siamo, questo è il duplo, tu mi peccini il basso tipo caimano e lanciò la spasima Osservare per apprendere, dentale labiale Più mistico, dentale labiale Mi piace questa camicia, l'ho comprata la boutique po' canzi Prezzo pieno Perché io che anche tu fanno... No, è che mi fanno il 70% Se me lo dicevi prima Eh ma ho comprato pure queste scherpe La pure quella prezzo pieno Se me lo dicevi prima, ormai Io ci sono andato per consueto, la commessa quella prezzo Quella è la mia ragazza, pure la tua Se me lo dicevi prima, ormai Oh, Kimbo A me, a me piace Come la commessa, capito? Ormai Grazie Restate Libro DSL, navighi fino ad Omega, i primi tre mesi sono gratis Abbonati su libro.it o chiama il 159 Sai che c'è di nuovo? Io ne scelgo uno più vivace Oggi bel paese è anche vivace Tutta la morbidezza che ami, con quel tocco di sapore Vivace, sempre bel paese Al primo campanello d'armare contro i sintomi dell'influenza Apprendi Activity, grazie ai suoi tre principi attivi Ti libera velocemente da febbre, dolori articolari e congestione nasale Ti libera tutto quello che ti serve contro i sintomi dell'influenza E' un medicinale che ha controindicazioni e può avere fedi indesidrati Puoi durare su una lenza, leggere eternamente il foglio illustrativo Non sollevare i bambini sotto i 12 anni Computer Build, la rivista di tecnologia più venduta in Europa da oggi anche in Italia Su Computer Build Italia, schede tecniche, consigli, recensioni E rigorosi test dei migliori laboratori europei su tutti i prodotti tecnologici Computer Build Italia è la più autorevole guida per i tuoi acquisti Prova, in offerta lancio a 1 euro, con cd a solo in 1 euro e 90 Computer Build Italia, nuova in edicola Nocciolato 9, delizioso cioccolato gianduia e superbe nocciole del Piemonte Aveva gli occhi del diavolo, signor Del diavolo, tieni un bel Aveva una maschera, aveva fatto Era dietro di me, l'ho vista per prima Un tuono Ho detto, ho visto qui, 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 nello stesso momento Ho visto un colore Brava Il GTI è tornato Vi presento Chiara, da oggi è dei nostri Ciao, sono Stefano La mese non è fantastica, ma è meglio dei tuoi capelli Com'è? Ciao, seguimi Come si può pretendere che le cose funzionino con quei capelli? E questa è Lisa, la mia assistente La prossima volta, sistemati i capelli I tuoi capelli nel ricci nel lisci ti rendono paranoica La nuova crema sansica, le proteine di pura seta, li liscia all'istante senza lisciare Grazie Nuovo sansica, il liscio assoluto Chi è? Chi sono? Cosa fa? Cosa faranno? Cosa dirà? Cosa diranno? Lo scoprirete a scherzi a parte Diego Batanguolo, Massimo Volti, Alessio Marcuzzi Scherzi a parte Domenica alle 20.40 su Canale 5 Domenica alle 20.40 su Canale 5